Il sindaco Bonifazio ha ricevuto il nuovo presidente della comunità islamica. Camissa, accompagnato dai suoi collaboratori dall'imam, si è detto soddisfatto per lo svolgimento delle elezioni, per la prima volta aperta a tutti gli islamici. Riunire tutti i musulmani intorno a un tavolo, stare tutti insieme, diciamo, con una unica moschea. Infatti avremo delle rappresentanze anche in queste nuove sessioni, dalla rappresentanza del Senegal, dal Pakistan, dall'Albania, dalla Macedonia. Voglio dare il meglio di me e andare avanti per il bene della comunità, se Dio vuole, se Allah vuole. Bonifazi si congratula, ma non manca di precisare riguardo al capitolo moschea. Quattro candidati gestiranno insieme, al di là di chi ha vinto, con l'imam e con tutta la comunità, la comunità stessa. Non si può pensare di fare grandi moschei, grandi luoghi di culto. Le strutture devono essere conformi alle effettive esigenze. Le strutture per il culto se le devono pagare coloro che le vogliono realizzare. L'elezione del nuovo presidente non ha portato però soltanto conseguenze di carattere positivo. Si apre infatti il fronte delle polemiche per il mancato coinvolgimento di tutte le componenti etniche. Fonderemo, chiederemo anche altri, o siano magribini, oppure arebi, oppure pakistani, insomma indiani, quindi di poter fondare un gruppo di almeno dieci persone di un tipo consiglio islamico maremano, di poter osservare tutta la situazione islamica e dei musulmani qui di Grosseto. Non vogliamo che in testa della comunità islamica grossetana sia un pesce per gli squali.